Un'antologia di letture delle parole di Dio Onnipotente Dio stesso, l'unico, sei La santità di Dio, tre Quale argomento avevamo condiviso l'ultima volta? La santità di Dio E quale aspetto di Dio stesso? E' interessato dalla santità di Dio Riguarda l'essenza di Dio? Sì Allora qual è esattamente il soggetto che riguarda l'essenza di Dio? La santità di Dio? Sì La santità di Dio Questa è l'unica essenza di Dio Qual era il tema principale della scorsa condivisione? Discernere la malvagità di Satana E che cosa avevamo condiviso a proposito della malvagità di Satana? Lo ricordate? Come Satana corrompe l'umanità Usa la conoscenza, la scienza, la cultura tradizionale, la superstizione e le tendenze sociali per corromperci Esatto Questo era l'argomento principale che avevamo discusso l'ultima volta Satana usa la conoscenza, la scienza, la superstizione, la cultura tradizionale e le tendenze sociali per corrompere l'uomo Questi sono i modi in cui Satana corrompe l'uomo Di quanti modi si tratta in tutto? Cinque Quali cinque modi? Scienza, conoscenza, cultura tradizionale, superstizione e tendenze sociali Quale pensate che Satana usi maggiormente per corrompere l'uomo? L'aspetto che lo corrompe più in profondità La cultura tradizionale Alcuni fratelli e sorelle pensano che sia la cultura tradizionale Qualcun altro? Conoscenza Sembra che possediate un elevato livello di conoscenza Altri? Conoscenza Condividete lo stesso punto di vista I fratelli e le sorelle che hanno risposto cultura tradizionale Possono dire perché la pensano così? Avete una qualche comprensione di questo? Non volete spiegare la vostra comprensione? Le filosofie di Satana e le dottrine di Confucio e di Mencio Sono profondamente radicate nelle nostre menti Pertanto riteniamo che ci corrompano molto profondamente Quelli di voi che pensano sia la conoscenza Potete spiegare perché Esprimete le vostre ragioni La conoscenza non ci può mai permettere di adorare Dio Nega l'esistenza di Dio e il dominio di Dio Vale a dire La conoscenza ci dice di studiare fin dalla giovane età E che solo per mezzo dello studio e dell'acquisizione della conoscenza Possiamo garantirci un futuro In tal modo Essa ci corrompe Satana perciò usa la conoscenza per controllare il tuo futuro e il tuo destino Quindi ti mena per il naso Questo è il modo in cui pensi che Satana corrompa l'uomo più profondamente Pertanto la maggior parte di voi Pensa che Satana usi la conoscenza per corrompere l'uomo alla massima profondità C'è qualcun altro? Che mi dite della scienza o delle tendenze sociali, per esempio? Qualcuno è d'accordo al riguardo? Sì Oggi condividerò di nuovo con voi delle riflessioni a proposito dei cinque modi in cui Satana corrompe l'uomo E quando avrò terminato Vi farò di nuovo delle domande per vedere esattamente quali sono gli aspetti mediante i quali Satana corrompe l'uomo più profondamente Capite l'argomento, vero? La corruzione dell'uomo da parte di Satana si manifesta principalmente in cinque aspetti Questi aspetti sono i cinque modi in cui Satana corrompe l'uomo La prima di queste cinque modalità a cui abbiamo accennato è la conoscenza Pertanto prendiamola come primo argomento di condivisione Satana usa la conoscenza come esca Ascoltate attentamente È solo un tipo di esca Le persone vengono invitate a studiare molto per migliorare ogni giorno Ad armarsi della conoscenza come di un'arma da utilizzare per garantirsi l'accesso alla scienza In altre parole Più conoscenza acquisite, più comprenderete Satana dice alle persone tutto questo Satana dice loro di nutrire anche ideali elevati Contemporaneamente alla loro acquisizione della conoscenza Dicendo loro di avere ambizioni ed ideali A loro insaputa Satana trasmette alle persone tanti messaggi come questo Così che le persone inconsapevolmente Pensino che ciò sia giusto o vantaggioso Inconsapevolmente le persone percorrono questo tipo di sentiero Inconsapevolmente guidati e sospinti dai propri ideali E dalle proprie ambizioni Passo dopo passo Le persone inconsapevolmente apprendono dalla conoscenza ricevuta da Satana Il pensiero di persone grandi o famose accettandone le idee Apprendono anche una cosa dopo l'altra Dalle imprese di alcuni che vengono considerati eroi Voi potreste conoscere alcuni aspetti delle imprese di tali eroi Che Satana presenta come modello O che desidera instillare nell'uomo Che cosa instilla Satana nell'uomo L'uomo deve essere patriottico Avere integrità nazionale ed essere eroico Che cosa apprende l'uomo da alcune vicende storiche O da alcune biografie di figure eroi A nutrire un senso di lealtà personale O a fare qualsiasi cosa per un proprio compagno o per un amico All'interno di questa conoscenza di Satana Gli uomini apprendono inconsapevolmente molte cose E apprendono molte cose tutt'altro che positive In mezzo a tale inconsapevolezza Nelle loro menti immature Vengono piantati i semi che Satana ha preparato per loro Questi semi li fanno sentire che dovrebbero essere persone notevoli Famose, eroiche, patriottiche Persone che amano la propria famiglia O disposte a fare qualsiasi cosa per un amico E ad avere un senso di lealtà personale Sedotti da Satana Inconsapevolmente Percorrono il cammino che questi ha preparato per loro Mentre percorrono tale sentiero Sono costretti ad accettare le regole di vita di Satana Inconsapevolmente e del tutto ignari Sviluppano le proprie regole di vita Quando non sono altro che le stesse regole che Satana Ha instillato a forza in loro Durante il processo di apprendimento Satana fa sì che essi promuovano i loro personali obiettivi Determinino gli scopi della loro vita Le regole del vivere E la direzione dell'esistenza Contemporaneamente E per tutto il tempo Instillando in loro le cose di Satana Utilizzando storie Biografie Tutti i mezzi possibili Affinché le persone a poco a poco Abbocchino all'amo In tal modo le persone sviluppano i propri interessi e passatempi Nel corso dell'apprendimento Alcuni si dedicano alla letteratura Alcuni all'economia Alcuni all'astronomia O alla geografia Ci sono poi alcuni che si danno alla politica Altri alla fisica Alla chimica E persino alcuni a cui piace la teologia Sono tutte parti della conoscenza E tutti voi ne siete venuti in contatto Nei vostri cuori Ciascuno di voi sa come va con queste cose Ciascuno ne è venuto a contatto in precedenza A proposito di questi generi di conoscenza Chiunque potrebbe parlare all'infinito di uno di loro Ed è pertanto evidente quanto profondamente tale conoscenza Sia entrata nella mentalità dell'uomo Mostra la posizione occupata da tale conoscenza Nella mentalità dell'uomo E quale profondo effetto abbia sull'uomo Una volta che si comincia ad apprezzare un aspetto della conoscenza Quando nel proprio cuore Una persona se ne è innamorata profondamente Cominciano a svilupparsi inconsapevolmente degli ideali Alcuni vorrebbero essere autori Alcuni scrittori Alcuni intraprendere la carriera politica Altri quella economica E diventare uomini d'affari C'è poi un gruppo di persone Che vogliono fare gli eroi Essere grandi o famosi Indipendentemente dal tipo di persona Che desiderano essere Il loro scopo è di assumere questo metodo Dell'apprendimento della conoscenza E di utilizzarlo ai propri fini personali Per realizzare i propri desideri I propri ideali Indipendentemente dall'apparente bontà di tali propositi Ovvero realizzare i propri sogni Non vivere questa vita in vano O intraprendere una carriera Nutrono tali elevati ideali ed ambizioni Ma fondamentalmente A che serve tutto ciò? Ci avete mai pensato prima? Perché Satana vuole fare una cosa simile? Quale scopo si propone Satana Instillando tali cose nell'uomo? I vostri cuori Dovrebbero avere chiarezza a tale proposito Parliamo ora di come Satana usa la conoscenza Per corrompere l'uomo Da ciò che abbiamo detto finora Avete cominciato a riconoscere Le sinistre motivazioni di Satana? Un po' Perché Satana usa la conoscenza per corrompere l'uomo? Che cosa vuole che faccia l'uomo usando la conoscenza? Condurre l'uomo a seguire quale tipo di strada? Resistere a Dio Certamente resistere a Dio Questo è l'effetto che puoi osservare Nelle persone che acquisiscono conoscenza E la conseguenza che vedi dopo l'acquisizione della conoscenza Resistenza a Dio Quindi, quali sono le sinistre motivazioni di Satana? Non ti è chiaro, vero? Durante il processo di apprendimento della conoscenza da parte degli uomini Satana utilizzerà ogni mezzo Per soddisfarne i desideri E realizzarne gli ideali Ti è chiaro su quale strada esattamente Satana voglia condurti? In parole povere Le persone pensano che non ci sia niente di sbagliato Nell'apprendimento della conoscenza Che sia nel corso naturale delle cose Pensano che coltivare nobili ideali O avere ambizioni Equivalga semplicemente ad avere delle aspirazioni E che questa dovrebbe essere la strada giusta da seguire nella vita Se le persone possono realizzare i propri ideali O fare carriera nella vita Non è più glorioso vivere in tal modo? Non solo onorare i propri antenati in tal modo Ma anche lasciare il proprio segno nella storia Non è una buona cosa È una cosa buona e appropriata Agli occhi della gente del mondo Tuttavia Satana con le sue sinistre motivazioni Porta le persone su questo tipo di strada E poi decide che è fatta? No di certo In effetti indipendentemente Da quanto nobili siano gli ideali umani Indipendentemente da quanto realistici siano i desideri dell'uomo O da quanto appropriati possano essere Tutto ciò che l'uomo vuole ottenere Tutto ciò che l'uomo cerca È inestricabilmente connesso a due parole Queste due parole sono di vitale importanza Nella vita di ogni persona E sono cose che Satana intende instillare nell'uomo Quali sono queste due parole? Una è fama E l'altra è profitto Sono fama e profitto Satana usa un tipo di modalità molto sottile Molto consona alle nozioni delle persone Non è un tipo di scelta radicale In mezzo all'inconsapevolezza La gente arriva ad accettare lo stile di vita di Satana Le sue regole di vita Stabilendo degli scopi e la propria direzione nella vita E così facendo E così facendo inconsapevolmente Determina i propri ideali di vita Tali ideali di vita Indipendentemente da quanto altisonanti Possano sembrare Sono solo un pretesto Inestricabilmente legato a fama e profitto Qualsiasi persona grande o famosa Da ogni persona in effetti E tutto ciò che seguono nella vita È collegato unicamente con queste due parole Fama E profitto Non è forse vero? Sì Dopo aver ottenuto fama e profitto Le persone pensano di poterli capitalizzare Per godersi uno stato sociale elevato e grandi ricchezze E godersi così la vita Dopo aver guadagnato fama e profitto Possono quindi capitalizzarvi su per il loro godimento Della carne edonista e indiscriminato Le persone prendono i loro corpi Le loro menti Tutto ciò che possiedono Il loro futuro e il loro destino E lo mettono nelle mani di Satana In modo volontario seppur inconsapevole Al fine di ottenere la fama e il profitto desiderati Le persone lo fanno senza neppure un attimo di esitazione Costantemente inconsapevoli Della necessità di riprenderne completo possesso Potrebbero le persone avere ancora controllo Su di sé dopo essere passate in tal modo dalla parte di Satana Ed essergli divenuti fedeli Certo che no Sono completamente e assolutamente controllate da Satana Sono anche completamente e assolutamente incapaci di liberarsi Dal pantano in cui sono affondate Una volta che ci si è impantanati nella fama e nel profitto Non si ricerca più ciò che è luminoso, giusto O le cose belle e buone Ciò avviene perché il potere seduttivo esercitato da fame e profitto sulle persone È diventato eccessivo Ed esse divengono obiettivi da perseguire nel corso della vita E persino per tutta l'eternità senza fine Non è vero? Alcune persone diranno che acquisire conoscenza Non consiste in altro che nel leggere libri O imparare un paio di cose che ancora non si sanno Sostenendo che lo fanno Per non restare indietro con i tempi E non essere lasciati indietro dal mondo Diranno che la conoscenza si apprende solo per mettere del cibo in tavola Per il proprio futuro O per le necessità indispensabili Ora Potete dirmi se c'è qualcuno che sopporterebbe un decennio di studi impegnativi Solo per le necessità indispensabili Solo per il bisogno di procurarsi il cibo No, non c'è Non esistono persone di tal fatta Per che cosa allora si sopporterebbero tali disagi e sofferenze per tutti questi anni? Per fama e profitto Fama e profitto aspettano al varco Chiamano E si crede che solo mediante la diligenza, sofferenze e lotte Sia possibile seguire tale strada e ottenere così fama e profitto Si devono sopportare tali disagi per il proprio percorso futuro Per il proprio futuro benessere e per una vita migliore Potete dirmi che cosa sia in realtà sulla Terra La cosiddetta conoscenza Non si tratta di regole di vita E di una strada attraverso la vita Instillate nelle persone da Satana Insegnate loro da Satana Nel corso del loro apprendimento della conoscenza Non si tratta di nobili ideali di vita instillati nell'uomo da Satana Prendiamo ad esempio le idee di grandi personaggi L'integrità dei famosi O lo spirito coraggioso di figure eroiche O la cavalleria e la gentilezza dei protagonisti e degli uomini d'arme Dei romanzi di arti marziali Queste idee influenzano una generazione dopo l'altra E la gente di ogni generazione viene portata ad accettare tali idee A vivere per tali idee e a perseguirle incessantemente Questo è il modo, il canale con cui Satana usa la conoscenza Per corrompere l'uomo Pertanto, dopo che Satana ha condotto le persone Sulla via della fama e del profitto È ancora possibile per loro credere in Dio? Adorarlo? No, non lo è La conoscenza e le regole di vita instillate nell'uomo da Satana Contengono alcun pensiero di adorazione di Dio? Contengono alcun pensiero che sia conforme alla verità? No, nessuno Contengono alcuna realtà a proposito del temere Dio e fuggire il male? No, nessuna Sembra che lo diciate con una certa titubanza, ma non importa Cercate la verità in tutte le cose E otterrete le risposte corrette Solamente con le risposte corrette Potrete percorrere il giusto sentiero Ricapitoliamo brevemente Che cosa usa Satana per tenere l'uomo vincolato e sotto controllo? Fama e profitto Quindi Satana usa fama e profitto per controllare i pensieri degli uomini Finché tutto ciò a cui riescono a pensare non sia altro che fama e profitto Si impegnano per fama e profitto Sostengono disagi per fama e profitto Sopportano umiliazioni per fama e profitto Sacrificano tutto ciò che hanno per fama e profitto Ed esprimono giudizi o prendono decisioni Per ottenere e mantenere fama e profitto In tal modo Satana avvolge l'uomo in invisibili catene Queste catene Vengono messe sul corpo delle persone Che non hanno la forza Né il coraggio di liberarsene Così le persone continuano costantemente ad arrancare in gravi difficoltà Senza rendersi conto di portare tali catene Per il bene di tale fama e profitto L'umanità diviene estraniata da Dio e lo tradisce A ogni generazione che passa L'umanità diventa sempre più malvagia Sempre più ottenebrata E in tal modo una generazione dopo l'altra Finiscono distrutte nella fama e nel profitto di Satana Guardando ora alle azioni di Satana Quali sono esattamente le sue sinistre motivazioni? È chiaro ora, no? Satana non è forse abominevole? Sì Forse oggi ancora non riuscite a vedere Attraverso le sinistre motivazioni di Satana Poiché pensate che non ci possa essere vita Senza fama né profitto Pensate che se le persone si lasciano alle spalle fama e profitto Non siano più in grado di vedere la strada che sta loro davanti Né le proprie mete Il loro futuro si fa oscuro, vago e confuso Ma lentamente un giorno Riuscirete a riconoscere che fama e profitto Non sono che mostruose catene forgiate da Satana Per soggiogare l'uomo Il giorno in cui riconoscerai ciò Resisterai accuratamente al controllo di Satana E alle catene con cui Satana cerca di avvincerti Quando verrà il momento in cui desidererai liberarti Di tutte le cose che Satana ha instillato in te Allora romperai inequivocabilmente con Satana E aburrirai sinceramente ciò che Satana ti ha portato Solo allora proverai autentico amore e desiderio di Dio Solo allora potrai percorrere il retto sentiero della vita Nel conseguimento della verità